Bene, prima di iniziare a parlare della fenotipizzazione digitale e digital biomarkes e com'è, questi concetti cambieranno la medicina e la psichiatria per sempre, mi voglio presentare, per chi non mi conosce, mi chiamo Valerio Rosso, sono un medico, uno psichiatra, psicoterapeuta e da qualche anno mi occupo a divulgare i principali temi della psichiatria sul web. Se mi interessano la psichiatria, le neuroscienze e i temi a dessi collegati, mi invito a iscrivervi subito a questo canale YouTube e a seguirmi anche sulle altre mie piattaforme digitali come il mio blog valeriorosso.com e il podcast L'Opsiconauta. Ok, digital biomarkers e fenotipizzazione digitale, ne stanno iniziando a parlare un po' tutti, ma di che cosa si tratta esattamente? Perché sono concetti così importanti? Perché molti esperti dicono che cambieranno la medicina e la psichiatria, in particolare, per sempre e in maniera radicale? Diciamolo chiaramente, in psichiatria la diagnosi e la definizione delle varie dimensioni psicopatologiche sono affidate alle analisi soggettive degli operatori. Nonostante l'efficacia poi di fondo delle diagnosi in psichiatria, i problemi ci sono, e tutti conosciamo il grave problema degli psichiatri nel riuscire ad oggettivare segni e sintomi di psicopatologia. A poco ci sono serviti, purtroppo, in tutti questi anni, i tentativi di utilizzare nella pratica clinica, vera, quella quotidiana, gli esami strumentali, quelli ematochimici o anche gli stessi inquadramenti mediante test. La verità è che ad oggi solo il colloquio clinico e di lavoro in equip con diverse professionalità ci può fornire degli elementi per una diagnosi che sia utile a costruire un adeguato progetto terapeutico e quindi ad aiutare le persone. La verità è che tutto questo, diciamolo nuovamente chiaramente, ha una certa quota di aleatorietà, di incertezze e di scarsa oggettività. Non dico che non sia efficace nell'aiutare i nostri pazienti, ma tutti gli operatori della sanità, e credo i pazienti stessi, vogliono di più. Pretendono di aumentare l'efficienza delle procedure diagnostiche psichiatriche. E quindi, all'orizzonte da circa una decina di anni, si sta prospettando la possibilità di ottenere dei markers e delle fenotipizzazioni comportamentali derivanti dalle nuove tecnologie del digital, in particolare da tutti i dati che possiamo estrarre dalle periferiche digitali in nostro possesso. Gli smartphone in particolare. Sì, perché è chiaro che ognuno di noi ormai vive in perfetta simbiosi con il suo smartphone. Non se ne distacca mai, neppure di notte. 365 giorni all'anno, 24-7. A questo dato, di fatto, dobbiamo appaiare la realtà che i nostri smartphone sono ormai dei super sofisticati sensori, da cui otteniamo moltissime informazioni su di noi. Dove siamo? Dove ci spostiamo? Come ci spostiamo? Le nostre attività motorie? Tramite i sensori di giroscopi presenti all'interno. Le ricerche che facciamo sul web? Quello che leggiamo? Le foto che facciamo? Come le facciamo? E ultimamente, tramite il riconoscimento vocale, gli assistenti vocali, la possibilità di monitorare e valutare il nostro linguaggio sul piano semantico, del ritmo, della prosodia e mille altri parametri. E quindi, è chiaro che una periferica che ci osserva e registra tutti questi parametri è in grado di produrre, mediante l'analisi evoluta del flusso continuo dei dati, dei veri e propri marcatori digitali e di tipizzazione del comportamento. Di fatto, definendo anche quali sono poi le nostre dimensioni psicologiche. Non so se sono riuscito a farvi capire la portata rivoluzionaria di questo innovativo utilizzo del digital in psichiatria. Le conseguenze si avrebbero non solo sull'aspetto clinico e sulla quotidianità del lavoro, sulle persone, ma anche e soprattutto in ambito di ricerca dove si potrebbero compiere dei veri e propri balzi in avanti, sia sul piano di nuove definizioni della malattia mentale, sia in termini di studio di efficacia delle terapie. Insomma, un reale salto quantico in avanti, come si dice oggi, un vero quantum leap. Mi farebbe piacere sentire cosa ne pensano i miei colleghi a riguardo, ma anche i pazienti. Mi pare sia d'obbligo iniziare a studiare tutte queste nuove possibilità, no? Ma ne riparleremo di sicuro, questo è solo un inizio, una piccola introduzione. Bene, a questo punto vi saluto e se vi è piaciuto il video, appunto, vi chiedo di darmi un like, di iscrivervi a questo canale YouTube, al mio podcast su iTunes o su Spotify, se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, gli ultimi aggiornamenti in questi campi. Alla prossima!